Da edificio abbandonato a nuova, spaziosa e funzionale foresteria con 21 posti letto, è la storia di Hostal Badia, il nuovo prodo per pellegrini e turisti della Via Francigena, inaugurata a Badia Pozzeveri, nell'ex canonica e nell'ex casa del colono, della chiesa abbaziale di San Pietro, all'interno di uno dei siti archeologici più interessanti d'Italia. Una storia di rinascita e riqualificazione che ha permesso ad Alto Pascio di raddoppiare la propria capacità ricettiva per chi decide di intraprendere il cammino verso Roma a piedi o in bici. Questo è un investimento importante che fa sì che Alto Pascio diventi ancora più centrale all'interno del percorso della Via Francigena che è conosciuto ormai in tutto il mondo. Un percorso su cui la Regione Toscana ha creduto e che dobbiamo ringraziare perché l'investimento è oggi possibile grazie a un contributo proprio di Regione Toscana, della Fondazione Casa di Risparmio e una parte anche da parte del Comune di Alto Pascio. La nuova foresteria si inserisce in un contesto molto bello che è il contesto di Badia Pozzeveri che vede degli scavi archeologici davvero importanti che hanno dato dei risultati scientifici notevoli e in un ultimo anche quest'anno sono in corso da molti anni e continueranno anche in futuro. La nuova foresteria che sorge proprio lungo l'antico tracciato della Francigena andando ad aggiungersi all'ospitale già attivo nel centro storico di Alto Pascio è stata realizzata grazie all'azione congiunta di più enti. Mi sembra che anche questo sia effettivamente un intervento molto importante per il territorio di Alto Pascio ma non solo perché effettivamente questo è uno dei centri più importanti della Via Francigena in questo tratto e averlo recuperato, aver aumentato il numero di posti letto per i pellegrini che passano di qua è un evento assolutamente importante proprio per cercare di rendere sempre più valido da parte dei pellegrini la risposta del territorio alle loro esigenze. La regione toscana ha destinato all'intervento oltre 400.000 euro. Ma io vedo ogni anno crescere, anzi al di là delle più rose previsioni quel turismo slow fatto della persona che è in bicicletta, a piedi percorre e ama quindi rivivere quello che era la dimensione di una Toscana del Medioevo ma con l'amore che il silenzio riesce a offrire nei suoi monasteri nelle sue strade che si immergono nella campagna con quindi in questa località ad Alto Pascio un percorso della Francigena che ha i suoi elementi centrali addirittura quel periodo fece crescere i Cavaliari del Tau che proprio da Alto Pascio si irradiarono in Toscana, in Italia. Solo nel 2018 più di 1500 persone provenienti dall'Italia ma anche da Francia, Germania, Olanda e Spagna hanno sostato nella foresteria del centro storico.